lo vuoi sapere il trucco per fare una carne perfetta per non sbagliare mai la cottura ti dirò io il trucco preciso per farlo e poi puoi fare o una cosa del genere semplice semplice con carne cottura media e due patate a roche marina oppure da fare una bella pizza con due friariella e la carne sotto vedi com'è bella guardate qua guardate qua guardate che scusatemi se magari qualcuno non può mangiare la carne mi riferisco magari alle donne incinte che in media non la possono mangiare ma guaiù il trucco ve lo svelo io non vi preoccupate che facciamo fare la carne affinurumum allora preparatevi perché adesso vi faccio vedere proprio un trucco perfetto e speciale per controllare sempre la carne a che punto di cottura lo volete insomma cucinare se la volete media se la volete ben cotta se la volete al sangue meno di media meno di ben co poi vi faccio vedere subito allora innanzitutto per fare questa ricetta voglio io ho scelto una bella bistecca di manzo ho preso naturalmente la parte della schiena guardate quanto è bella me la sono già pure andata a tagliare più o meno la grandezza è di 220 barra 240 grammi adesso una volta e per sempre vi faccio vedere come si cuoce una carne a livello proprio da ristorante a livello di chef ok siete pronti sì allora venite con me cavo faccia la prima cosa che dovete sapere voglio è che la carne prima di andare a mettere sulla griglia o in padella la dovete lasciare a temperatura ambiente almeno 30 40 minuti io però come la lascio c'è ci sono pare scuole di pensiero c'è chi mette il sale e il pepe nella cottura c'è chi ce lo mette dopo e chi ce lo mette prima io sono tra quelli che lo mette prima ok quindi io vado a salarmi la carne vado a pepare anche un po' ambe o due lati a tutte e due parti vedete uno due tre e ti e ti ecco qua sale e pepe adesso la lasciamo a temperatura ambiente perché deve prendere un po di insomma di temperatura esterna e mo ci andiamo a fare due patate siccome dobbiamo aspettare questa mezzoretta io mi sono semplicemente bollito delle patate vedete me le sono tagliate pure a spicchi quando insomma una patata è morbida ma non è che si è sfaldata le togliete le fate raffreddare un pochettino poi padella o le psa vicine d'oliva e ce le mettiamo dentro le facciamo rosolare fin quando non diventano belle marroncine sale e pepe e rosmarino e fra poco ci occupiamo della carne allora vedete la carne adesso ha raggiunto la temperatura ambiente che a me occorre praticamente adesso la carne non riceve quello shock termico da freddo a caldo è perfetto il sale fa trasudare la carne guardate com'è bella lucida adesso voi tu occhio la griglia è accesa al massimo le patate si stanno cuocendo vedete sta cominciando a fare quella crosticina dopo le andiamo a mettere il sale il rosmarino adesso occhio prendetevi la mano fatelo insieme a me toccatevi con l'altro indice della mano questo palmo qui della mano vedete quando toccate qui e toccate la carne sulla griglia voi dovete regolarvi in base a questo palmo qui se toccate qui vedete che proprio morbido e morbido anche la carne allora questo qui significa che la carne è al sangue se poi toccate indice pollice e toccate così questo è un po di più di medio quindi un po di meno di al sangue sempre toccando la carne andando a scalare con i diti dito medio toccate qui qui diventa leggermente più duro però la carne significa che è cottura media se fate con con quest'altro dite qui significa che la carne è quasi cotta se toccate con il mignolo e il pollice toccate qui è proprio duro significa che la carne è cotta tanto praticamente che la carne è super cotta ok voi dovete scegliere la cottura che volete noi oggi la facciamo così carne media quindi rosa sempre toccando la carne adesso la griglia è al massimo mettiamo la carne sopra e la lasciamo adesso cuocere almeno due minuti per lato toccando sempre la carne ci regoliamo con questo sistema voglio questo sistema della mano non ve lo dimenticate più ben cotta quasi ben cotta media un po di meno di al sangue e questa è proprio cottura praticamente al sangue una carne di queste dimensioni bastano all'incirca per far la media due minuti per lato adesso abbiamo passato i primi due minuti adesso giro vedete già si è fatta la caramelizzazione degli zuccheri della carne fagliela vedere eccoci qua e adesso andiamo già a passare naturalmente anche se abbiamo adesso appena girato guardate con il dito spero che non vi scottate dopo mettetevi un guanto guarda vedi vieni qui vedi andando a toccare la carne possiamo fare già la prova non è ancora media vedete questo è più o meno ancora ancora così vedete che un po di più di media anzi quasi quasi ancora al sangue ok quindi dobbiamo aspettare ancora tre quattro minuti tempo che la carne cuoce alla perfezione andiamo a salare le patate ci andiamo a mettere un po di rosmarino un po di pepe e la cosa più bella è che mentre si cucina sto a dieta ancora prendo un bicchiere di vino un po di pepe e come è bello cucinare proprio con amore si cosa c'è e a fino al mondo sta carne qua non ci vuole niente fra poco vi faccio vedere il resto fate cuocere i lati vedete come sto facendo io vedete fate cuocere prima un po così prendete girate fate cuocere un po così giusto 30 secondi per lato e poi vi faccio vedere adesso il sistema per farlo uscire proprio perfetto continuiamo a toccare adesso la carne è media ragazzi guarda qua vieni qua tocca e adesso toccatevi dito medio dito pollice qui vedete toccate e media adesso arriva però una fase molto importante arriva la fase del riposo della carne ok questa fase qui è molto molto importante perché adesso la carne riposandosi non facciamo uscire troppo i succhi della carne riposandosi la carne rimane proprio tenera e perfetta come noi la vogliamo carne l'abbiamo fatta riposare io sto facendo cuocere quest'altra pettina di carne che questa qua io me la mangio un po di meno di media e mi sono preso pure la briga di fare un po di cipolla di tropea vedete alla griglia tanto bella perché voglio usare a fare l'esagerato faccio non faccio pure questo pane ma lo facciamo insieme con due friarielli che sono avanzati di ieri però adesso andiamoci a occupare della carne mi raccomando questo qui non lo togliete prendete il coltello adesso andiamo a tagliare guardate qui che cottura praticamente perfetta vedete vedete guardate guardate qua che cottura perfetta andate sempre a tastare la carne guardate qui vieni qua faglielo vedere ancora più vero perché nessuno ve lo farà vedere questo qui solo io ve lo faccio vedere guardate toccate e toccate qui è la stessa identica cosa quindi significa che la carne è cotta media ed è perfetta che siamo c'è un po di sale sopra e adesso andiamo all'assaggio ora ci facciamo pure questo pezzo di pane mamma mia guardate qua guardate qui la carne questa qua media sta qui guardate qua che lo so fino un vero l'olena toccata va bene e vieni qua via vieni qua via vieni qua via ti è mangia di questo pezzettino di carne guarda qua carne media guardate che a mia figlia spezza spezza perché non siamo mai è proprio di eh 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 paroppa ma 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 e tanto bro pezzo di pane mettiamolo sopra e facciamolo croccantizzare le patate guardate che bello colore che stanno a cominciando ad assumere ma voglio vi venite qua carne media a dito medio, io qua l'ho fatta quasi un po' più avanti di al sangue, quindi se questa qua è cruda, questa qua è al sangue, io ho fatto questa qui un po' più avanti di al sangue, un po' più avanti di medio, un po' meno di al sangue, guardate qui, vedete la carne dentro? Ancora un po', vedete? Ed eccoci qua, toccate sempre la carne e toccate per i diti, non sbagliate mai questo sistema mio, qua la cipolla l'abbiamo fatta fare alla griglia, dei due tipi di canne, sangue, meno eh, è media, adesso guardate qui, questo è quel succhetto lì della carne che abbiamo fatto praticamente, che abbiamo conservato, ok? Perché quando la carne si riposa tralascia i suoi succhi, vedete? Ma questo qui ce lo andiamo a mettere un poco su questo pane qui che abbiamo già girato, vedete? Ce lo mettiamo qua, un poco ce lo andiamo a mettere sulla carne, vedete? Perché voglio, guardate, scusatemi se questo può essere un po' qualche immagine, qualche video un po' particolare per non dire che porno, scusatemi, non si dice perché c'è Sofia davanti, adesso? Ma tu devi vedere la faccia di Sofia, ho l'acquolina in bocca, adesso andiamoci a fare questo pezzepano bello croccante, a modo mio, bella cucinare così, guardate che io adoro fare questo tipo di cucina, proprio semplice, guardate qui, i friari che stiamo facendo fare la griglia, ora prendiamo la cipolla, cipolla senza maionese, senza ketchup, niente, niente, siamo a mettere questa carne coppa così, vedete? Guardate qua, guardate qua com'è bello, guardate qua, un poco di sale sopra, un poco di pepe sopra, un poco di olio extravergine d'oliva, quello buono, quello che c'era il supermercato italiano di Solingen, e i friari dall'altra parte, ma io, mo, ciurrite questo panino, schiacciate, perché adesso lo andiamo ad assaggiare, come lo preferisci, così con due patate, oppure uno bello pezzepano, guardate qua, guardate qua che friari con carne, guardate là, madonna mia, andiamo al taglio, mannaccia, mannaccia, devo dire una cosa al mio amico Daniele, Daniele, il professore di Roma, assaggio solo, assaggio solo, ti giuro, e guarda, mi faccio assaggiare mia figlia, vai amore di papà, vai, mannaccia, spezza, madonna mia, Daniele, hai visto? Sì, ho solo spezzettato, e ora qua, che fai? L'accapato non c'è la mamma, che mi fai? Salute, e condividete la ricetta, se mia figlia è contenta della carne, che è la mia peggior cliente, che l'allaga, che mi fai una schifezza, allora con la menta fino al mondo. Salute, alla prossima, carne, cottura, perfetta.